io sto dicendo no, sto dicendo perché se qua ti aspetta io c'è un pezzo giugno che mi senti io sono fulmo ho visto che c'è la ditta manchi o sei pronto beh ma cazzo adesso non partire adesso c'è questo qua che giocava con noi il treno lo ricordi il treno? si, il treno si, il treno si, il treno un altro passaggio così ti ammazzo ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. , grazie a tutti. 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 a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. bravo, 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 bravo. Grazie a tutti. , grazie a tutti. , , grazie a tutti. 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 , bravo, bravo, bravo. , grazie a tutti. 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 , grazie a tutti.